Buongiorno, vorrei ora mostrarvi un'attività come esempio di quelle che andremo a vedere durante il corso. Parleremo quindi della divisione in colonna nella scuola primaria, dalla costruzione del pensiero ideomotorio all'algoritmo. In generale possiamo affermare che per trattenere e consolidare le conoscenze tutti noi abbiamo bisogno di riferimenti spazio-temporali. Queste considerazioni sono valide a maggior ragione per i bambini anche e soprattutto per quelli con difficoltà di apprendimento. Quindi se consolidiamo l'intuizione del movimento da eseguire e ne perfezioniamo la coordinazione a livello grafo-motorio attraverso la percezione e la ricorsività ritmica-auditiva diamo ai nostri alunni una possibilità in più di raggiungere l'obiettivo. Nel caso specifico il percorso didattico è rivolto alla strutturazione dell'algoritmo nella divisione in colonna. La proposta è stata fatta ai bambini della seconda classe della scuola primaria. La proposta didattica in un primo momento avviene a livello ritmico corporeo e linguistico espressivo, discretizzando il piano della palestra. Successivamente avverrà in forma grafica. Questo percorso ha permesso agli alunni di trasferire sulla pagina del quaderno le intuizioni acquisite con evidenti risultati positivi rispetto al gruppo di controllo. La proposta didattica, pur non trascurando gli aspetti affettivo-relazionali, focalizza a livello corporeo i rapporti cartesiani della divisione in colonna e attenua notevolmente le eventuali difficoltà di lateralizzazione, permettendo di applicare correttamente l'algoritmo. Verranno fatte alcune considerazioni specifiche, perché la proposta prende in considerazione ed evidenzia i fatti spaziali, e cioè l'intuizione degli assi cartesiani, la proiezione sul piano del quaderno, la partizione del piano nei quadranti cartesiani, destra e sinistra, cioè la y, sopra e sotto, cioè la x. I fatti numerici, e cioè scrivere numeri, raggruppare, moltiplicare, quindi le tabelline, addizionare e sottrarre. I fatti linguistici, e cioè la scoperta di un ordine linguistico che si colloca in uno spazio ben preciso e con un ordine altrettanto rigoroso. Faremo infine alcune riflessioni sugli aspetti affettivi della matematica.